salve a tutti ben ritrovati sul canale andiamo con questo nuovo gioco ovvero prince of persia the lost crown qui siamo praticamente un ritorno alle origini del prince of persia mi ricordo che ci ho giocato da ragazzino a scuola durante l'ora di pausa e di un istituto professionale di cui non faccio il nome mi ricordo avevo giocato al primo prince of persia e questo un po riprende le origini iniziali appunto della saga di prince of persia ma banda alle chance io l'ho provato all'inizio ma per pochi pochi minuti quindi direi di iniziare una nuova partita insieme con voi faremo questo gioco suddiviso in vari episodi bene premi un tasto qualsiasi per iniziare premiamo la x allora allora raga io vorrei allora opzioni notizie allora un attimo le opzioni allora i sottotitoli erano più che altro quelli che mi interessavano anche perché il resto aspettate la lingua dei dialoghi francese tedesco no purtroppo l'italiano non c'è ok allora mettiamo l'inglese bene avviamo la partita allora un attimo che sì io lo voglio eliminare perché ripartiamo da zero ok allora modalità di gioco abbiamo esplorazione esplora il mondo con poche informazioni sulla mappa scegli questa modalità se vuoi scoprire le aree senza indicazioni oppure guidata le icone della mappa indicano dove si trova il prossimo obiettivo sono indicati i sentieri disponibili e quelli bloccati scegli questa modalità per esplorare più facilmente ma esplorazione o ma io direi guidata mai allora qui abbiamo la difficoltà del combattimento principiante per chi vuole godersi la storia senza sfide troppo impegnative guerriero un'esperienza di combattimento bilanciata con alcune sfide e la difficoltà predefinita del gioco oppure eroe un'esperienza di combattimento più impegnativa per chi ha dimestichezza con i giochi d'azione immortale una difficoltà maggiore che non lascia spazio a errori durante i combattimenti oppure abbiamo la personalizzata personalizzata la difficoltà e l'esperienza complessiva ma io direi di andare con quella normale che è questa guerriero ci sarà una intro dopo il caricamento quindi vi voglio lasciare la intro anche per godermela perché all'inizio quando l'avevo provato l'avevo saltata però ora voglio godermela con voi è un po' di tempo senza freddo la prima volta che avevano l'avevo saltata avevano l'avevo saltata un po' di tempo di scuola di Persepolis The Kushans, bloodthirsty warriors from the east, were attacking Persia. Persian soldiers defended the land, no matter the cost. Ardashir resisted heroically, but his men fell one by one. Anahita summoned her remaining strength in battle. For Yuvishka, the Kushan general, victory was certain. Until history took a different turn. The Seven Immortans were the best warriors in the kingdom. One of them would become a legend. Two of them would go anywhere. Two other countries would blow their heroes in the kingdom. Ah! Siamo nel gioco praticamente Ok Noi siamo nei panni di Sargon Allora da sta parte non si può andare Come vedete Per chi l'ha giocato È quasi simile al primo Fritz of Persia Prem X per saltare Ok Easy Molto facile Dobbiamo proseguire da questa parte Tieni premuto X per saltare più in alto Ok Grande Bello Premi L più R2 per scivolare Vai Fast Quadrato per attaccare Ok A via Finora semplice Vai Ok Tieni premuto X per saltare sulla piattaforma E andiamo E andiamo Ehi La parata con L2 Facile Ebbè hanno bisogno di diversi colpi Orod Orod Questo è un nostro amico Un alleato praticamente Ok Tieni premuto R2 Il movimento per correre Bene Menolias Questi sono i nostri alleati Praticamente Vai Opla Qui c'è Sarà veramente Da combattere E prendere Tante di quelle Bavilate Nave gente Che Ah mi aiuta Lui Per fortuna Ah ma almeno Che mi aiuta Ok Vai Belle eh Queste scene Comunque I filmati Molto bello Ho tanti ricordi Con il Prince of Persia Ragazzi Vai Allora Il caricamento Vediamo un po' Da sta parte Praticamente Ok Ma No Aspettate Salta sul muro Poi ti Ah ok Ah eccolo Ok E qui Ah ok Easy Facile Ok E meno per il momento Ancora Pai Oh Cazzarola Aia Si mette male Bello Bello Spettacolo Spettacolo puro Spettacolo puro Spettacolo puro Il generale non deve essere lontano Ok Almeno spero di occuparmi Io Nuovo oggetto ottenuto Pozione di cura Ripristina la salute Premi Levetta Alto Per bere una pozione Ok Bello Quindi così Semplice Vai Sargon Ah ok Wow Bello Bello Tanti ricordi Mi ricorda un po' I primi Prince of Persia Veramente Ah questo è il generale Ok Quello che abbiamo visto Sulla intro Aia Questo è un boss Oh Oh Aia Questo me sa che ci fa il culo Eh gente Aia Oh 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 Hmm Ai, 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 ai L2 Ok Vai Eh, ormai Eh, ve l'ho detto che ci aveva battuto E lo